Sulla parte Andrea Campas, il massacchione, il simpaticone del mondo off-road, con i suoi tanti fissori italiani, 9 abbiamo detto prima, credo, 7, 7, 7, ne avevamo dati 2 in più, ma insomma dai, qui non bagliamo a spese, Andreino, con il suo golden boy, vi vediamo lì, Davidino Campas, che più tardi incoraggeremo così, come...